Ciao sono Giulio Ligato, sono Liutaio da più di 10 anni, ho deciso di aprire questo canale YouTube per condividere con voi la mia passione. In questo canale vi farò vedere come realizzo una chitarra classica, acustica o elettrica partendo da zero, vi parlerò delle sue specifiche tecniche acustiche e vi racconterò la sua storia. Vi spiegherò come settare al meglio i vostri strumenti da un semplice cambio corde alla regolazione del thrust rod e tante altre cose. Ci vediamo in bottega!